ciao e benvenuti di nuovo sul mio canale allora come avrete visto dal penultimo video perché l'ultimo era era un video un po più cortino di una challenge che ho fatto allora praticamente io andrò a fare anche se mi è arrivato l'altro ieri oggi siamo a lunedì mi è arrivato sabato dopo ben sole ben 48 ore dall'ordine neanche forse e quindi oggi vado a fare l'unboxing con voi quindi ho aspettato proprio oggi anche se avevo bisogno delle cose che c'erano qua dentro che ho ordinato ma ho voluto aspettare per farvelo per bene perché comunque avevo un po di persone in casa ok allora questo è come viene imballato come vi può arrivare il pacco io come ben sapete l'utilizzo e riutilizzo all'infinito sia scatole che comunque questi per tutto l'imballo diciamo ecco qui allora vediamo un po qua cosa c'è ah vabbè lo scontrino del mio ordine poi abbiamo allora come vi avevo detto l'altra volta ho ripreso il collagene vegan perché tra i due tra quello marino e quello vegan ci piaceva di più questo a livello di gusto però appunto va a gusti e quindi magari voi preferite quello marino io vi direi provateli entrambi e vedete quello che più vi aggrada a me mio marito piace di più questo ricordo che il collagene è adatto a rendere giovane a rendere e mantenere giovane pelle capelli unghie ma soprattutto le articolazioni i tendini e i muscoli la muscolatura e anche le cartilagini e quindi ve lo faccio vedere così all'interno a 15 bustine da 6 grammi ciascuna e potete prenderlo anche non tutti i giorni come una al giorno comunque si consiglia appunto l'assunzione di una bustina al giorno da sciogliere in 250 ml di acqua e quindi ve lo potrete puoi bere o subito comunque nel giro magari che ne so di un'ora ecco di un'oretta e molto molto buono oltre che essere comunque d'aiuto per quello che vi ho detto e non solo poi perché adesso devo poi studiare bene tutti i prodotti perché mi piacciono un sacco mi piace imparare sempre cose nuove e quindi allora ecco qui quello che dovevo aprirlo per questo allora il rialfibre è la prima volta che lo prendiamo questo è un integratore alimentare a base di fibre alimentari con prebiotico questo qui ricordo anche questo serve per per chi soffre di stitichezza comunque problemi gastrointestinali anche dovuti a una scorretta alimentazione oppure all'assunzione di antibiotici scusate c'è casino fuori un attimino che chiudo la finestra perché non vorrei che proprio stiamo in direttissima con il mio il mio video allora dicevo questo qui allora dentro c'è vabbè inulina fibra di mela eccetera eccetera allora qua se guardiamo ci sono vedete che poi sono utili per tutti i casi di aumentato fa bisogno o ridotto apporto di tali nutrienti assumere il contenuto di una bustina direttamente in bocca o disciolta in un bicchiere di acqua dose consigliata una bustina al giorno anche qui e questa qui è molto molto comoda se siete fuori casa e non avete un goccio d'acqua dietro si può assumere direttamente oro solubile quindi direttamente insomma in bocca e stavo guardando quante non c'è scritto quante bustine ci sono non mi ricco perché non mi ricordo io ecco qui 30 bustine monodose da 4 grammi ciascuna infatti è la cura per un mese consecutivo e quindi se soffrite di queste cose questo è il prodotto giusto poi andiamo avanti ho preso real vita anche questo lo stavo attendendo con ansia perché questo è per me è bello bello pesantino bello sostanzioso è un integratore alimentare complesso multivitaminico e ha tutte queste vitamine se leggete ve lo lascio un attimo qui così potete vederlo con calma e questo serve soprattutto a me che nei cambi di stagione io soffro tantissimo a parte di pressione bassa e mi ammalo molto facilmente e quindi io di solito assumo integrazione comunque pappa reale a questi cambi di stagione autunno estate autunno oppure in primavera primavera estate proprio dove ci sono questi cambi anche di temperature qui dentro c'è anche appunto la pappa reale come avete visto e sono allora questi qui si prendono dose giornaliera una bustina al giorno non superare la dose giornaliera consigliata assumere il contenuto della bustina direttamente in bocca oppure diluita con acqua anche qui bellissimo oro solubile quindi se non avete acqua dietro bellissimo anche qui sono 30 bustine monodose da 10 ml l'uno quindi cosa capite che sono liquide queste qui erano in polvere no oro solubile in polvere invece queste qui sono liquide magari adesso ve ne apro pure una così vi faccio vedere come sono solo alla fine come quelle di non so se sono come queste qui no 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 sto dicendo delle cavolate allora un attimino che così vediamo se riusciamo a farvene vedere una senza buttare giù la telecamera 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 la videocamera ecco qui vedete bella bella pienotta e per quello che è pesante ed è liquida ed è così bellissimo oggi pomeriggio già comincio a prenderne una quindi rimangono lì e poi vi sarò da sapro dare un resoconto vabbè non subito oggi logicamente devo fare almeno una cura per vedere i primi risultati di solito in queste cose naturali così di integrazione ci vanno dai almeno dai 10 15 giorni di assunzione tutti i giorni e poi guardate qui il catalogo guardate quanto è spesso completo di tutti i 300 e passa prodotti che ha questa azienda ricordo che è un'azienda italiana questo qui è il catalogo in inglese e in italiano e quindi se volete scrivete perché avevo intenzione comunque di farlo scrivete nei commenti se volete uno sfoglio del catalogo completo di snap e mi raccomando così so anche a quanta gente può interessare sapete già che comunque uno dei prossimi video sarà appunto lo sfoglio di questo catalogo per farvi vedere la ricchezza di prodotti che c'è c'è proprio un ventaglio di prodotti che va dai profumi all'integrazione integrazione per lo sport skin care paste proteiche quindi cibo la tutta la linea aloe drink e la le la scusate mi si è incepata la lingua e la linea invece dei dei plus quindi degli shake e tanto tanto altro quindi veramente aspettate che tolgo questo cartone di sotto ok così andiamo meglio e quindi allora con questo ho finito adesso me lo vado a dare un'occhiata così alla veloce scrivete sotto nei commenti se volete appunto lo sfoglio di questo ricco catalogo intanto in descrizione vi lascio tutti i miei contatti privati come solito se volete chiedermi delle informazioni riguardo i prodotti che ho preso oppure vi lascio direttamente il link del mio shop online così anche lì potrete andare a curiosare i prezzi le offerte in corso e farmi tutte le domande magari poi del caso invece se siete già intenzionate a comprare lo fate direttamente se non avete bisogno di aiuto insomma però io se volete sono qui niente che dirvi ci vediamo al prossimo video dove farò vedere questa bellezza di carta e appunto mettete un bel mi piace iscrivetevi al mio canale che parla di tante tantissime cose tra cui benessere naturale e cura naturale vita di tutti i giorni perché il titolo del mio canale e cose semplici creatività e risparmio economico alla prossima ciao